Intanto il fenomeno della sex rate non è nuovo, non è qualcosa di oggi, ma credo che sia profondamente radicato in questo tempo e in questo tipo di società. Arriva in un momento post-covid dove soprattutto le persone giovani non hanno vissuto per anni la socialità e lo scambio umano di persona. Ci parla tanto di disconnessione anche dal proprio corpo, non il fatto di metterlo a disposizione di un gioco, una sfida che implica tutta una serie di rischi che probabilmente non vengono neanche presi in considerazione. E' proprio un'alienazione dal proprio corpo, dalla sessualità, dalla propria sfera intima e viene buttata in mezzo a una performance sociale evidentemente per trovare accettazione, validazione, fama immagino. E in questo mi viene in mente anche il ruolo dei social che gioca in questo caso, quindi il fatto di doversi mostrare, di dover essere visti e viste dalle persone e di fare qualcosa che ci contraddistingua dalle altre persone e spuntare fuori dal branco. Il grosso problema fondamentale in tutta questa storia a monte è la mancanza di una cultura condivisa della sessualità che deriva da una mancanza di educazione sessuale che in Italia non è ancora materia obbligatoria nelle scuole e chissà per quanto tempo non lo sarà. La società italiana cosa può fare? In questo potrebbe creare innanzitutto un dialogo. Quando parliamo di società pensiamo sempre a questi grandi organi enormi sopra di noi, queste strutture impalpabili, mentre invece la società siamo un po' noi, le persone che sono intorno a noi e anche le persone in cui ci rapportiamo, quindi sia a scuola che sul lavoro, poi successivamente, ma anche nei momenti di tempo libero. Quindi tutte le persone che si interfacciano con noi sono la società, noi siamo la società. L'Italia è totalmente indietro per quanto riguarda le tematiche della sessualità, del corpo, del benessere sessuale, di qualsiasi cosa che riguardi la dimensione della sessualità e del corpo. Aggiungo il corpo perché è una cosa fondamentale. Noi siamo Morena e Ivano e in realtà siamo un po' più conosciuti come Le Sex and Rose, che è il nome del nostro progetto e tramite questo progetto noi parliamo di di sessualità e soprattutto di ricerca del piacere, perché il piacere per noi è il punto centrale di una vita sessuale sana, appagante e felice. È molto difficile ultimamente affrontare questo tema, paradossalmente più difficile di quando abbiamo iniziato, parliamo di circa sei anni fa, perché ci sono tante strutture di più, anche se si lavora per decostruire i tabù, per abbattere le barriere. In realtà ci troviamo poi a scontrarci con sempre più barriere. Non viviamo nel momento politico più felice per questo paese e la direzione che noi vediamo è buia. Con questo governo da una parte sentiamo la voglia di liberarsi da tutta una serie di sovrastrutture, da liberarsi anche da dinamiche repressive ma anche performative. Dall'altra parte a livello politico, governativo, la direzione sembra tutto il contrario, quindi sembra tornare a silenziare tutta una serie di tematiche e uniformarci di nuovo, conformarci a dei dettami, dei dogmi che decidono chi siamo, come dobbiamo essere, come dobbiamo approcciare la sessualità, come dobbiamo relazionarci i corpi, quali i corpi sono desiderabili, quali no.